Calde e palline soffici, pronte con soli due ingredienti, si preparano in 5 minuti e sono perfette per l'aperitivo. Mischia il parmigiano insieme agli albumi. Forma delle palline tutte uguali. Friggi in olio caldo finché non saranno belle gonfie. Non sono bellissime? E se le vuoi più croccanti, passale nel pangrattato, saranno ancora più resistibili. Noi le abbiamo divorate. Fatte sulle braccia sono la fine del mondo. Stendi la carne di una salsiccia per ogni fetta di pane. Purtroppo noi non abbiamo la braccia e le abbiamo infornate a 200 gradi per 10 minuti. Se preferisci, aggiungi un po' di mozzarella durante gli ultimi minuti di cottura. Ecco pronte le vostre bruschette gustose, croccanti e piene di sapore. Farai un figurone a Pasqua. Grazie a tutti. 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 Solo tre ingredienti per l'antipasto più sfizioso di sempre. Versate la carne di due salsicce grandi in una ciotola. Aggiungete 200 grammi di stracchino e amalgamate per bene. Prendete del pane fresco e con un po' di magia tagliate la fette. Condite ogni fetta con un cucchiaio di composto e infornate a 190 gradi per 10 minuti o finché non saranno ben dorate. E' un po' di magia tagliate. E' un po' di magia tagliate. E' un po' di magia tagliate. Finiranno in un batter d'occhio. E' un po' di magia negra. E' un po' di magia tagliate. E' un po' di magia tagliate. Grazie a tutti. Grazie a tutti.